C'è un elemento sul quale possiamo intervenire e secondo me oggi abbiamo la grande responsabilità di intervenire ed è il tempo, il tempo che concediamo a loro, il tempo che concediamo prima a noi stessi di fare le cose con più tranquillità per rallentare e per lasciare un po' di risposta, è nata una bimba di nome Letizia, perché per ricomporre l'essere umano c'è bisogno di ritornare ai tempi più lunghi della relazione, ai tempi più dispensi per stare anche con noi stessi a contatto con la natura. Un spunto che viene dalla Bibbia dove si parla di Adam e di Adamacca. Adam significa uomo e Adamacca significa uomo. Quindi se anche in un testo sacro così importante ci viene dato che indica così forse il tempo per cominciamo a prenderci il tempo per riconnetterci con noi. Grazie. Grazie.